Ritratto della crisi di Siria e Matteo a Temptation Island, la situazione tra Siria e il fidanzato Matteo continua a destare preoccupazione durante il programma Temptation Island. La giovane fidanzata ha espresso frustrazione riguardo al loro legame, evidenziando una profonda insoddisfazione e la sensazione che le cose non stiano procedendo nel migliore dei modi. Nel corso di una conversazione con Jenny, Siria ha manifestato la sua mancanza di Matteo, aggiungendo una riflessione amara sulla natura di questi sentimenti. La ragazza ha commentato. La mattina io ci sto male, sono otto anni che ce l'ho lì, però ho idea che mi manchi soprattutto per abitudine. Nonostante l'intensità delle emozioni espresse, Jenny è rimasta in silenzio, lasciando che Siria approfondisse questa riflessione. Le dichiarazioni di Siria sui gesti di Matteo, in seguito, Siria ha raccontato a Jenny di una domanda posta da uno dei tentatori riguardo a ciò che Matteo fa per lei. La risposta di Siria è stata rivelatrice della sua delusione. Lui mi ha chiesto che cosa fa di bello per me, e io non so rispondere, non mi viene in mente niente. Nonostante gli incoraggiamenti di Jenny a ricordare anche i piccoli gesti, Siria si è trovata in difficoltà, giungendo a piangere e a dire No, non mi viene in mente, il quarto falò e le reazioni di Matteo e Siria. Arrivato il momento del quarto falò, Filippo Bisciglia ha chiamato Matteo, che ha vissuto intense emozioni nel vedere le lamentazioni di Siria. Nonostante ciò, Matteo ha manifestato un atteggiamento positivo, condividendo il suo desiderio di riacquistare il cuore della fidanzata. Se lei mi rivorrà la renderò il più possibile felice, la reazione di Siria, tuttavia, è stata negativa, in quanto non ha ricevuto alcun video dal suo compagno. La sua frustrazione è emersa con chiarezza. Anche questa cosa se fino a qualche giorno fa mi tranquillizzava, adesso invece per niente, speravo almeno in una sua reazione, magari parlare della nostra storia o dire cosa non va bene a lui. Questa situazione ha alimentato ulteriormente i dubbi di Siria sulla relazione con Matteo, portando a una riflessione profonda sui sentimenti e sul futuro della loro.